Ci siamo, sì, Pinocchio di Guillermo del Toro, finalmente sono riuscito a recuperarlo, su Netflix purtroppo, al cinema non ho fatto in tempo, causa febbre, penso di avere addosso una macumba perché ho preso tre volte l'influenza nel giro di un mese, una cosa che non mi capitava forse da 25 anni, però non lo so, sarà la piccola che dal nido mi porta le varie malattie, perché saranno le mie difese immunitarie disintegrate, però adesso sto bene, diciamo così, per quanto possa interessarvi, credo che i miei anticorpi adesso siano abbastanza formati per tutelarmi per i prossimi due anni, magari. Detto ciò, in sala ovviamente è stato pochissimo, qui in Italia, soliti problemi relativi alla pubblicazione duplice, Netflix e cinema, però comunque sono riuscito a vederlo anche in lingua originale, vi dico la verità, avevo iniziato con la versione italiana, essendo Pinocchio, chiaramente, da collodi un prodotto italiano, ho detto, bah, avranno fatto un buon lavoro. Dal punto di vista del doppiaggio dell'adattamento, dal mio umile punto di vista, è terribile, in lingua italiana, terribile, le canzoni sono veramente orrende, adattate malissimo, ho switchato, quindi, velocissimamente, in lingua originale, dopo una ventina di minuti, e devo dire che il prodotto è di tutt'altro livello, soprattutto per quanto riguarda le canzoni. La colonna sonora di The Splat, chiaramente meravigliosa, le canzoni non mi stavano piacendo, ma per quanto riguarda la versione italiana, invece, con le voci originali, devo dire che le ho apprezzate molto, si vede che sono state poco elaborate, per quanto riguarda, o perlomeno non elaborate bene, a mio umile modo di vedere, nella versione italiana, perché sono sicuramente portato a vedere anche un film in stop motion, in lingua italiana, perché non c'è, chiaramente, il lavoro dell'attore, il lavoro dell'attore c'è, ovviamente, dal punto di vista vocale, però abbiamo dimostrato, nel corso degli anni, soprattutto, in ambito di animazioni, anche in stop motion, chiaramente, Nightmare Before Christmas, di Selick e Burton, è un capolavoro, dal punto di vista dell'adattamento, con quel fantastico Renato Zero, che ha assolutamente, dal mio punto di vista, migliorato Danny Eppmann in originale, l'unico, non a livello dell'originale, era l'interprete di Ugi Bugi, di Bao Bao, notevolissimo anche quello italiano, per l'amor di Dio, però, quell'originale è veramente un mostro, però, in questo caso, non ce l'ho fatta proprio, ho detto no, andiamo nella versione originale, e, appunto, ve lo consiglio, ve lo consiglio direttamente così. Poi, magari, è un mio problema, e, invece, voi avete apprezzato anche le canzoni nella lingua italiana, però, non so, mi sembra che sia stato fatto un lavoro non ottimale nell'adattamento, le canzoni in originale hanno tutto un altro sapore, si sposano bene le parole con la melodia, in italiano cozza un pochino. Comunque, eccoci qui per parlare dell'ennesimo film di Pinocchio. Dico ennesimo perché, effettivamente, all'annuncio di questo film, nonostante io ami alla follia Guillermo del Toro, del Toro, Guillermo del Toro, detto in romano, sinceramente, il mio cervello ha istantaneamente pensato, Oddio, un altro adattamento di Pinocchio, ne ho visti 480.000 nella mia vita, da quello di Benigni, Didalò, Comencini, Garrone, Disney 2, il secondo, lasciamolo perdere. Però, però, alla fine, mi sono convinto. Anche grazie ai vostri consigli, ovviamente, io cerco sempre di leggere tutti i commenti, quindi scrivetemi la vostra, come al solito. Parto uno spoiler, chiaramente, anche se, vabbè, spoilerare Pinocchio, anche se qui la versione è diversa, sia dal classico Disney che da Collodi, quindi non farò spoiler su quest'opera. E ho detto, vabbè, Guillermo non si può non vedere, quindi alla fine sono riuscito a recuperarlo, complice anche la febbre che mi ha dato un giorno di libertà. e devo dire che ho fatto benissimo, perché ci troviamo di fronte ad un film meraviglioso. Forse un capolavoro? Il tempo potrà dircelo. Anticipo subito le varie domande. Quando recensisci Avatar, eccetera? L'ho visto ieri, forse dopo questa recensione lo recensisco. Vediamo. Questi sono gli occhiali 3D. Poi vi dirò con calma. Mi è venuto in mente appena ho detto capolavoro. Non aggiungo altro. E io non sono un grande amante del film Avatar, però vabbè, poi ne parleremo. Dunque, rilettura, come dicevo di Collodi, ovviamente Del Toro riesce sempre a inserire la politica decisamente esplicita in sue opere, come nella Spina del Diavolo, L'Abbirinto del Fauno, e anche qui, chiaramente, lo scenario è quello fascista della Seconda Guerra Mondiale. C'è il Duce. e diversi rimandi estetici di manifesti, canzoni, balilla, devo dire anche abbastanza accurato dal punto di vista storico. Poi non sono uno storico, però si vede che hanno fatto un ottimo lavoro di ricerca. Per quanto riguarda, invece, gli attori che parlano in italiano nella versione originale, ci sta, ogni tanto, ovviamente, utilizzano termini, soprattutto nomi propri, chiaramente, o nomignoli, no? Come il Duce, il Babbo, il Papa, fa un po' ridere, però ci sta, soprattutto Christoph Waltz, che interpreta il Conte Volpe. Sappiamo benissimo essere in grado di parlare diverse lingue, l'aveva dimostrato anche in Bastardi Senza Glorie e non solo. Conte Volpe, sì, un personaggio particolare, diciamo, ispirato a Mangio Fuoco, anche se è un po' una rilettura sul tema. Alcuni personaggi non ci sono, come il Gatto e la Volpe, altri, come vi dicevo, sono stati completamente stravolti. Grillo Parlante, La Fata, che sembra più una sfinge, ovviamente, del Toro, è un maestro nella creazione di mostri, queste figure, questi freak, a metà tra la mitologia, il fantasy e il gotico. Quindi, da un punto di vista estetico è meraviglioso e chiaramente questo lavoro con la stop motion, che io amo alla follia, anche se amo molto di più la stop motion tradizionale, questa è, chiaramente, la nuova versione, però riescono tutti quanti gli addetti ai lavori, hanno lavorato in moltissimo a questo film, tra l'altro c'è anche un codirettore, un coregista, purtroppo non ricordo il nome, ma ovviamente la stop motion sappiamo essere difficoltosa e soprattutto lunghissima come pratica. Adesso hanno velocizzato un pochino, chiaramente con la digitalizzazione, però è molto complessa. E dicevo, sono riusciti a replicare benissimo dei movimenti della macchina da presa e quindi a tutti gli effetti sembra una vera e propria macchina da presa, cosa che non è fittizia, però rispetta la grafica, la grammatica cinematografica, assolutamente. Ci sono alcuni rimandi a collodi, ad esempio i conigli becchini presenti nell'opera originale, se non erro, nell'opera originale erano mostrati dalla fata madrina Pinocchio come un futuro nel caso in cui Pinocchio non avesse assunto medicinali. Correggetemi in tal caso. Ovviamente molto, molto horror, oltre che politico, ma questo era abbastanza evidente anche solo dai trailer, ci sono veramente delle scene inquietanti che mi fanno pensare quasi a parallelismi eccellenti. La scena più horror, per quanto mi riguarda, è un momento in cui Pinocchio entra all'interno di questa logica fascista, quindi è costretto a fare determinate cose e inizia una sorta di balletto da marionetta inneggiando al duce. È la scena più horror, nonostante ce ne siano alcune veramente notevoli riprese anche dall'opera originale. Già quello della Disney, il primo, che io amo moltissimo, ma anche perché sono del 91, quindi sono cresciuto a pane i classici Disney, anche lì c'erano delle sequenze horror notevoli. Io ricordo con orrore tutt'oggi la sequenza di trasformazione di Lucignolo con quell'ombra veramente che sembrava un film gotico. Anche qui Lucignolo c'è ed è particolarissimo, particolarissimo vi dirò meglio nella parte spoiler. C'è un punto in cui Pinocchio e Lucignolo si trovano l'uno di fronte all'altro che mi ha fatto pensare alla guerra di Piero. non vado oltre. Meravigliosi, meravigliosi gli attacchi alla Chiesa. Sappiamo benissimo che in quel periodo la Chiesa era un tutt'uno con il regime fascista. Mussolini non era neanche cristiano, ma ad un certo punto per motivazioni politico-economiche ha chiaramente stipulato il patto con la Chiesa e quindi c'è assolutamente una critica devastante nei confronti delle figure sacre, chiamiamole così, che rappresentano il sacro anche lo stesso Gesù Cristo, non tanto Cristo come figura, ma la percezione dell'essere umano che vedendo questo Cristo in legno, chiaramente fabbricato dal buon Mastro Geppetto, prova una forma di rispetto, di riverenza, di timore, di amore, nei confronti di un altro pezzo di legno come Pinocchio invece prova timore estremo ed è uno dei momenti più toccanti del film. Il film è veramente tragico e ha fatto piangere sia me che Alex in un paio di punti ma come giusto che sia, come giusto che sia non è un film che vuole spingerti al pianto, è genuinamente costruito in modo che ci siano dei momenti di riflessione, non c'è una morte messa tanto per far piangere lo spettatore, delle semplificazioni, no, è un film che io farei vedere a mio figlio, io ho una figlia ancora piccola però magari diciamo avesse avuto un'età da persona sensiente, insomma da bambina sensiente per poterlo assorbire perché è un prodotto che ogni ragazzo dovrebbe vedere secondo me perché come Collodi volle in qualche modo utilizzare questo suo romanzo anche per insegnare alcune regole ai ragazzi, no, quindi il fatto che andare contro determinate regole, fare il rompiscatro e diciamo così non ascoltare i tuoi genitori era comunque importante per l'epoca, beh, qui abbiamo la stessa cosa con la differenza che inserendo il discorso del regime fascista qui Pinocchio come il bambino che ipoteticamente vedrà il film imparerà a distinguere cosa significa obbedire ad un ordine non per forza giusto e ascoltare e obbedire ad una corretta invece imposizione da parte di un genitore magari o di un amico il grillo parlante per citarne uno un consiglio quindi il bene e il male abbastanza netto come giusto che sia crudissimo come con l'odio e come tante altre favole quindi per me è veramente un film grandioso e forse da qualche anno lo definiremo capolavoro chi lo sa per me è un qualcosa di imprescindibile del toro non delude mai mi manca solo la sua serie che ancora non sono riuscito a recuperare ma sapete che io sulle serie proprio no quindi siate clementi con me vado con gli spoiler vado con gli spoiler ho poco da dire ragazzi il film è meraviglioso colonna sonora eccellente versione originale dal punto di vista delle interpretazioni ci sono tantissimi attoroni Tilda Swinton anche oltre a Christoph Waltz tutti fanno un lavoro magistrale le canzoni non le ho amate vi dico la verità neanche in lingua originale ma sono decisamente migliori c'è un altro momento in cui arriva un pirata si vede uno scenario marino con del fuoco e lui che fa questa introduzione stai per entrare in un inferno veramente delle sequenze memorabili soprattutto quelle che riguardano questi mostri che siano le sfingi le due fate madrina madrine sia i sorci i sorci diciamo becchini i conigli becchini sono impresse già nel mio cervello e penso che non se ne andranno molto facilmente vado con gli spoiler uno due tre tipo il conosciuto italiano tre due uno allora te fatto questo film allora vado anche qui abbastanza veloce insomma non c'è moltissimo da dire però la sequenza di cui vi parlavo in cui si critica spremamente la chiesa in realtà sono diverse perché comunque c'è questo prete della chiesa cittadina che chiaramente saluta con il saluto fascista il despoto di turno no? il papà di Lucignolo ripeto sappiamo il rapporto tra chiesa e fascismo in generale all'epoca tutti dovevano salutare in quel modo lo stesso Geppetto Pinocchio che riesce ad utilizzare il suo potere di ribellione a un certo punto anche in maniera subversiva e quindi prendendo in giro il duce che chiaramente è super caricaturale è veramente una sequenza magnifica e la contrapposizione tra il Cristo sempre fabbricato da Geppetto e Pinocchio che come una strega si vede detestato odiato rigettato dalla società che nella sua genuinità bambinesca dice ma perché queste persone amano lui e detestano me sono rimasto veramente impietrito nella sua semplicità la semplicità di un bambino questo film riesce a riassumere veramente delle piccole perle di saggezza degli insegnamenti è un film pedagogico secondo me questo Pinocchio e quindi non posso non posso far altro che amarlo anche Lucinio che ovviamente parte come il figlio di questo fascistone il padre va molto fiero del suo ragazzo anche se si vede subito non essere un ragazzo cattivo ma vuole convincere soprattutto gli altri e se stesso che sia il prototipo perfetto del fascista insomma del balilla del giovane balilla anche l'utilizzo di Pinocchio in chiave bellica beh lui il soldato perfetto perché non può morire quindi diventa utile alla società diventa utile al conte volpe che è una rilettura di mangiafuoco stupendo anche il personaggio di spazzatura anche lui deve comunque sottostare a mangiafuoco conte volpe ma ad un certo punto riesce a ribellarsi perché si rende conto che Pinocchio va aiutato va salvato non è veramente cattivo neanche questo scimmiotto e quindi tante cose non ci sono ovviamente l'albero perché non c'è il discorso del gatto e la volpe però secondo me va benissimo così forse il film è stato tagliuzzato un pochino perché ho l'impressione che verso la fine ci sia stata un'accelerazione netta forse avevano inserito anche i personaggi del gatto e la volpe poi tagliati in fase di montaggio non ne ho idea ricreando un po' anche il personaggio di mangiafuoco chiamandolo appunto conte volpe però non è importante questo alla fine ripeto la storia di Pinocchio la sappiamo tutti è anche abbastanza consumato però è un uno stereotipo è un archetipo talmente potente che contiene al suo interno tante nozioni tanti insegnamenti che si possono rigirare trasformare colorare in mille modi diversi del toro è riuscito secondo me in una delle migliori interpretazioni di collodi in tutti in tutti i media possibili non che avessi particolari dubbi però vedo Netflix settantesimo film su Pinocchio terzo Pinocchio nel giro di quattro anni dico vabbè forse e invece no e invece no quello che citavo sulla guerra di Piero ovviamente il momento in cui Lucignolo e Pinocchio nel paese dei Balocchi che poi è un centro di addestramento per i ragazzini con la radio che parte con i discorsi del duce con gli inni al duce si ritrovano l'uno contro l'altro e chiaramente non si uccidono perché sono amici tutto sommato e il padre va da Lucignolo a Mazzalo e Lucignolo chiaramente non lo fa si ribella al padre e quello è il momento di ribellione invece corretta quindi questo film non è semplicemente no i bambini devono ascoltare i grandi no questo film insegna secondo me anche ai più piccoli che si può si può ragionando anche genuinamente comprendere ciò che è bene e ciò che è male e per questo vi citavo la guerra di Piero nel senso due persone in quel momento dalle fazioni diverse con le maglie diverse con le bandiere diverse ma in realtà identici poi chiaramente abbiamo un bambino di legno un bambino vero però che differenza c'è nessuna vabbè le sfingi appunto meravigliose il mondo il mondo diciamo degli inferi chiamiamolo così con la sorta di limbo il mondo della morte è stupendo anche il grillo parlante meraviglioso questo scrittore che a un certo punto rinuncia al suo sogno per riportare in vita Pinocchio che sorprendentemente non diventa bambino nelle fattezze ma rimane così l'ho apprezzato e chiaramente il finale è devastante perché vediamo morire tutti tranne Pinocchio che presumo io abbia ricevuto la vita dell'albero da cui è stato concepito quindi magari vivrà tantissimi anni tipo le querce secolari non mi ricordo forse era un pino mi sa di sì perché c'era la pigna però in generale quindi sì anche lui prima o poi morirà ma chiaramente ha una vita molto più lunga rispetto a geppetto spazzatura il grillo anche perché era un bambino chiaramente quindi aveva ancora tanti anni davanti anche in un'ipotetica vita normale da centenario diciamo così però non invecchia anche se è divenuto mortale nel senso che potrebbe morire per cause di forza maggiore la sua età è decisamente più dilatata quindi è più longevo degli altri ecco del toro io non so cosa dirti non vedrai mai questa recensione però sei veramente un genio assoluto un plauso ripeto anche all'altro regista scusatemi se non ricordo il nome ma non lo conosco sicuramente si sarà occupato anche del discorso stop motion come successe con Selick e Burton poi lì Selick diresse tutto quanto completamente qui non so del toro quanto abbia lavorato anche su quella però è attivo da anni anche nella produzione di film in stop motion quindi penso che abbia un minimo di esperienza altro da dirvi no appunto le sfingi bellissime quindi questa questa dualità tra la sfinge della morte e la sfinge della vita il grillo parlante ve l'ho detto meraviglioso personaggio simpatico e che ho trovato finalmente non pedante i grilli parlanti ovviamente anche nell'immaginario sono diventati dei veri e propri rompicoglioni lui in realtà è un essere normale che è stato investito di questa carica quasi suo malgrado che commette degli errori ha dei pensamenti non è così forte mi ha ricordato un po' Zazu del re leone meno rompicoglioni però anche lui chiaramente impara delle cose da Pinocchio il padre Geppetto meraviglioso meraviglioso l'inizio dove vediamo questo padre distrutto dalla morte del figlio tra l'altro anche lì con questa bomba mamma mia io appena appena ho visto Carlo all'interno della chiesa con i bombardamenti Geppetto che guarda verso l'alto ho detto porca troia chiaramente lo sapevo perché la storia doveva cominciare in quel modo però mamma mia terrificante ovviamente meraviglioso il rapporto di Geppetto con il figlio morto e con Pinocchio inizialmente quest'uomo distrutto dal lutto che trova paura per Pinocchio inizialmente sembra veramente un mostro horror quasi un granchio veramente una sequenza da puro film horror in cui si vede Pinocchio per la prima volta un po' all'IT nel senso che personaggio buonissimo ma che inizialmente viene percepito come chiaramente un qualcosa di alieno di spaventoso quindi Pinocchio è Geppetto rimane un attimo così deve imparare a conoscerlo anche perché all'inizio Pinocchio è super discolo è completamente a digiuno di tutto non sa niente quindi chiede informazioni su qualunque cosa c'è un piccolo errorino secondo me verso il finale quando Pinocchio utilizza la bomba la mina nell'acqua per far scoppiare la balena non poteva saperlo perché non aveva visto mine di quel tipo se non erro se mi sbaglio correggetemi e soprattutto lui per uscire dall'acqua si aggrappa a quella bomba e non non ha un minimo di oddio sto sopra una mina quindi non lo so un po' forzato il fatto che lui vada lì senza che nessuno abbia dato informazioni su questo certo c'è stato il centro di addestramento quindi uno potrebbe dire vabbè non ce l'hanno fatto vedere ma lì hanno imparato anche cos'è cazzadina parliamo proprio di una minuzia però lì per lì ho detto oddio in che senso cioè un secondo fa c'è salito sopra non sapeva nulla adesso sa già vabbè bello anche il naso come si allunga particolare cresce proprio un vero e proprio albero rampicante perfetto ragazzi è un film secondo me perfetto io non ho non ho altro da aggiungere ripeto bellissimo Geppetto secondo me è il personaggio più bello se ce lo fa vedere come dolente un ubriacone inizialmente anche brutale perché vuole a tutti da tutti i costi ricreare il figlio morto in un altro essere perché Pinocchio a un certo punto glielo dice proprio al padre io non sono Carlo mi dispiace a un certo punto lui deve arrendersi e deve apprezzare ciò che ha un altro figlio è un altro figlio non è più Carlo l'elaborazione del lutto anche ragazzi queste sono cose che io spesso ho rivendicato ai vecchi film anche della Disney quella cattiveria un film Disney canonico sarebbe rinato pure Carlo non sarebbe morto nessuno tutti felici e contenti al massimo non lo so Geppetto perché era già vecchio però anche la grazia la grazia della morte di Geppetto dove lo vedi nel letto con Pinocchio che sta lì e poi scomparsa proprio la transizione scomparsa in cui non c'è più Geppetto che vi devo dire l'utilizzo della pigna perfetto quindi dicevo tanti film d'animazione che ho visto negli ultimi anni purtroppo avendo questo target secondo me secondo Davide Marra erroneamente sono diventati troppo buoni troppo buoni il bambino non è stupido il bambino non deve cibarsi di prodotti che creino una realtà senza brutalità senza la morte senza le difficoltà della vita no sono concetti che deve imparare il bambino poi magari qualche sociologo mi smentirà diranno no è giusto così è giusto che ormai i villain siano diventati quasi buoni pensate anche alle scelte della Disney con le varie riletture delle figure terribili della Disney no cruella malefica sembra che ormai non esista più la malvagità non esista più la morte anche nell'altro gigantesco filone molto amato dai ragazzi forse leggermente più grandi però molti ragazzini anche vanno a vedere i film della Marvel sempre Disney ovviamente pure lì non c'è mai la morte perché un personaggio muore e poi tanto lo rivedi nel film dopo perché torna indietro nel tempo nel prequel quindi non c'è mai una vera e propria presa di consapevolezza nei confronti della morte che esiste l'elaborazione del lutto quindi per me questo è un capolavoro anche in chiave pedagogica registro avatar se riesco un capolavoro che esiste un capolavoro Grazie a tutti.